La vediamo molto critica, ci sono ancora troppe incertezze. Non è il contenuto in sé delle misure anti-Covid che preoccupa, in vista del ritorno a scuola, i dirigenti scolastici veneti, ma l'incertezza che ancora regna una manciata di giorni dalla ripresa delle lezioni e il timore che le nuove disposizioni non abbiano una stabilità sufficiente. Evviva le discussioni di principio, ma chiediamo decisioni nette e chiare, però non che cambino fra tre giorni e poi fra una settimana. Capiamo l'evoluzione, ovviamente c'è un'evoluzione del contagio, c'è un'evoluzione anche, speriamo, in positivo del numero dei vaccinati e quant'altro, ma abbiamo bisogno di poter programmare con un minimo di... Noi e, e aggiungo, anche le famiglie, per cortesia, indicazioni chiare, in cui si dice se ci sono queste condizioni si fa così. Il nodo non è se sia meglio la didattica in presenza o a distanza, se i non vaccinati vadano o no lasciati a casa, continua Tivulli, ma è consentire al mondo della scuola di adempiere al proprio ruolo. Se è possibile teniamo i ragazzi in classe, si tenga presente però che sarebbe, io credo, di estrema complessità poter gestire un pezzo di classe in presenza, un pezzo in didattica a distanza e a geometria variabile, cioè con tre e con quattro. Inutile, come dire, mettere un'ipotesi di flessibilità che poi non si è in grado di gestire. Un rientro, quello del 10 gennaio, su cui gravano anche le assenze di personale, si stima tra il 5 e l'8% in Veneto, che sta producendo l'obbligo vaccinale per tutti i lavoratori della scuola. Dall'entrata in vigore del provvedimento avevano 20 giorni per mettersi in regola. Dal 15 dicembre ci siamo proprio in questi giorni e stanno partendo le prime sospensioni e quindi dal rientro sicuramente ci sarà questo problema da affrontare.